Poi caro Aldo, tu saprai bene che io a giorni festeggio i miei 50 anni e nell'occasione farò una festa molto importante verrà il generale dei carabinieri, verrà il colonel della finanza l'ammiraglio della marina ci sarà molta confusione perché capirai sono quasi 280 invitati sapete che va a combino nella casa uuuu mettono la casa sotto i coppi e appunto mi serve, mi occorre necessariamente due uomini due uomini, un carabiniere pronto e intelligente e un uomo che faccia la manovalanza e i servizi lì da casa Aldo, tu sei con me? certamente, marescia bravo mo mi serve soltanto il carabiniere pronto e intelligente